forte tanto porco dio e ho tutta l'amore del mondo tu sei scema che è sto volume o 16 concorrenti per una sfida epica 50 tiri totali divisi in dieci due giorni frati frati dai fatto schifo hai fatto 25 fatto a nasconde dai quel giorno lì il gattone io l'ho visto carico io l'ho visto che dopo che ci ha fatto anche una una fusa il gatto allora che dire lo facciamo entrare sergio don de la cruz aleandro mamma mia mamma mia e stesse cose con un limone scemi nanti senti io te voglio bene ma tanto parli bezzo brasiliano ma chi sono tutti questi no raga il figo ci ha messa la tenda di fortnite la c'è so tre video che il figo che sta a guardare chi tira ma è inquietante ma che è diventato sembra 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 o violetta quanto sei bella violetta ogni volta che ti vedo che ti vedo che ti metti lì a chiacchierare dei videogiochi ti apprezzo danni grazie per le dieci sab di stato e benvenuti ancora di mia bentornato l'orix e giuliani bentornati torna indietro o no io io l'ho detto sono tanti sono tanti allora io con sergio e niente chiacchia anche perché blu non piacciono le chiacchie va avanti così quindi io partirei subito inizio è caldo a hai capito ormai ci fanno ormai ci fanno leggimi che cosa è scritto ormai ci fanno ci fanno anche ci acchittano i video precisi per le stream c'è capito capito ormai si qua ti te li editano apposta pazzesco incredibile che vuoi violetta ah i giochi horror li finisco io i giochi horror li finisco tu no e no non ci riesce rip violetta primo non ti sto prendendo in giro quindi non la prendere sul personale secondo poi non capisco di che cosa stai parlando perso poi quando giochi visage e lo finisci tutto mi fai uno squillo nate ma a te bentornati e benvenuti ma non l'hai già giocato capace adesso grazie per le cinque sabbette giftate benvenuti leggimi leggimi non ho sentito non ho sentito ma comunque sì c'hai un problema di attenzione tu e dico assolutamente ma mica io non ti prendo ma perché ogni volta e dico faccio un complimento una persona sembra una presa in giro ti sto dicendo che sono serio poi complimenti davvero ti dico gioca di visage prima di parlare di giochi horror poi poi fammi sapere auguri a quando lo ti sei anche l'ultimo allora raga Don Cruz se ne fa 27 allora Simo è l'unico che ha fatto la five shot come dovrebbe essere fatta ovvero da quando batti il rigore senza paura corri su tutti i palloni e cioè dovrebbe essere che arrivi al quinto giro che si sta invece qua tutti rilassati io potrei decidi così e poi avete detto no guarda che poi anche soltanto è vero a venitura da fighe stai a piangere fighe lamentavano ma poi campolunghi inizia il video in andamo andamo che a blur non gli piacciono i chiacchiere il video dura il doppio di quelli che durano de norma ma questo è crispo ma comunque quanto ma quanto fari testata tu guardali portato allora sei il boss ma raga quanto fanno ridere sono tutti uguali guarda sembrano fatti con lo stampino tutti cinque o mini michelin guardali stesso giubbotto stessi pantaloni record cappello mu vanno mu so tornati in voga sti cazzo dei bomber guardali tutti sti cazzo stai fare veramente dalla foto di famiglia sono vestiti tutti uguali sergio quando te la senti sergione quando vuoi ricordati da dove vieni sergio don della cruz subito mangialo 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 è forte il don cruz è forte guarda guarda il fighe il fighe subito che chiacchiera di sottofondo è la voce la voce no o dio destro e sinistro no navo ammette fratea destro sinistro così navo ammette porco dio rega ma che perché stai cagliere partita ma che è ma c'è un bacino la più di potenza bello bello ma qua mi ha detto che è meno più che altro si è il cruz quando diranno ma chi è quest'altro berlini ma ragazzi ma ci sono delle persone che comunque sono ricorrenti nei video è inquietante cioè berlini e il fighe ormai stanno stanno veramente lì ci hanno messo la tomba ci hanno messo su sti video di garcia questo è il tuo compagno di squadra merdas galactico ma va 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 oggi sono fatto un po un giro sergio dittelo cazzo dittelo Pereira che sarei gli all star dire mamma mia che freddezza mena mena oddio aaaaaa brutto bene sergione queste gol sergio aaaaaa che schifo uuuu paro che schifo non è gol attenzione che diceva il nostro caro amico attenzione ultimo sergione per il 50% ooooooo sergio cruz Pereira sergione cinque chamber piatto eh mazza quando tira de piatto fratella mette la mette dove gli pare eh bello de piatto tira proprio bene stagia sta serie ha fatta pare che gli sta affan piacere che palle stoclus è un po' così un po' di cazzi ma si dice a Napoli dai ben tornati ben tornati andiamo a riscaldare un po' un po' gli aduttori il maestro s'offeso che non sei andato nella maestro camma scusa no il maestro si è arrabbiato no no la maestro adesso vado prossimo giro una tappa dalla maestro perché non può venire tutti infortunati qua non siamo pregi di me allora adesso hai fatto cinque nel prossimo quanto fai? cinque eh per forza cinque cinquanta per cento è tenuto giusto? eh sì dobbiamo fare qualche cosa non di più però ancora siamo freddi vabbè esatto sei ancora freddo vediamo di fare qualcosa in positivo dai piano piano come l'hai visto dire e questo è incredibile cioè va bene che uno più uno fa scusate dovevo sentire l'alerta di Giccio Gamer aspetta scusate si vede Simone Berlini di profilo mi seguo ok posso riandare posso venire anch'io Simo? eh? posso venire anch'io? grazie guarda che gnocco mangialo c'è la tre mamma mia bello e comunque a fare i rigori c'è sta a Pekhini eh non uno quasi Pekhini eh non uno no 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 Pekhini è quello del Bologna mi sbaglio sempre è devastante Sergio Sergio in più di tutti gli altri la freddezza sottoporto di le di le di le di le e li sa parà eh che? ma che fa? ma che clown buffone zio porco oh mio dio oh mio dio su quei palloni questo è la Campolubi eh qua faccio di me quando la palla rimbalza così Sergio che è successo qua? niente dai stiamo propone dai Sergio un altro paio di giri così e poi puoi tirare fuori la carta dell'infortunio non ti preoccupare ciavatta sborrata grazie per il sabbrico blu bentornato da fare il meglio ma purtroppo eh ma una trivela un po' matta non da te si no eh beh 7 su 15 ben male eh non è andata bene però lui è portoghese tu sei brasiliano dai dai vai vai sergione se sbagli al rigore è un disastro mamma mia andiamo mamma mia oh mio dio pancialo don eh sergione oddio oddio ti entra questa madonna oddio vai sergione ma che npc è il fiche bello ultimo per sergione questo lo deve fare per tenere il 50% lo tiene lo tiene aveva detto 5 ha fatto 5 10 su 20 50 vabbè se fino a che se tiene al 50% non è male però capito poi devi dare quel gocciolino in più per fare almeno 26 27 no 5 eh devi superare il professore confido il mio compagno di squadra il professore adesso è lì che si mette i capelli ma la verità è fi che sta difando per te o spera che frati ma io non posso sentire te tu capisci che io cioè alle 3 di notte non posso sentire la tua voce frati è proprio è veramente farsi un giro all'inferno è troppo cattiveria anche nei miei confronti Sergio cruz oddio una tortura cruz perera ma c'è il potere si non si non essere più ma essere devi essere ferro mi hai detto guarda che hai due secondi poi puoi stare a fare i calciari mi hai detto guarda che sono due parole senti fiche come pianghe mi piace mi piace fiche mi piace fiche mi mentalità sempre a piangere sta mi piace cruz perera non è scesa don della cruz perera palo palo va bene va bene palo non è gol attenzione sta a 12 se ne fammo 3 è buono perera giro 13 vai dal maestro vai dal maestro un po' così così questo giro eh davisimo ciao bentornati adesso più che altri quella fuori a dobbiamo cercare di disegnare vediamo dai dai però secondo me sta ingranando piano 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 no ha sbagliato ok no sta a segnare sta a segnare sta a segnare quelli mu parte sempre trentini sta a segnare sta a segnare quelli più semplici il rigore l'1v1 e quello lo stop a palla a movimento e il problema è che deve segnare quelli con la palla da ferme e noi non vai da nessuna parte mamma mia la bomba alla lucone centrale bello 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 tranquillo eh Sergio sergione avevi detto sei eh voglio sei ora guarda cinque anni per Sergio dile pergio attenzione don cruzza mamma mia eccolo e sei l'ha fatto può fare sei mazza che bolide che gli ha attirato segna pure questo don cruz non attenzione la cruz bello bello è alzato l'asticella 17 17 su 30 non è male si è però un'altra volta un'altra volta che se sta per lamentare che gli fanno male gli adduttori eh già lo vedo la vigo bentornato ti mancano 20 tiri devi fare 12 su 12 superare il professore basta fare sempre 3 ok super il professore ok va bene proviamo quindi adesso cosa fai ancora 7 6 va bene 6 va bene 6 va bene 6 va bene e io ci sto mettendo tutto me stesso ho un digno forte eh rigore lui c'è un parra rigore che non te ne ha preso uno eh ma vabbè magari sto a fare un tutto da fuori dai don cruz madonna ma di che sei forte sei bravo eh giuro è giocato quasi quasi tra i professionisti Anto grazie per i 15 non c'è niente di male a dire che sei bravo che sei bravo nooo mangialo 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 si come le foglie nel vento mangialo mangialo io l'unico la differenza tua Sergio prova a scartare il portiere eh grazie oh dio perché ha tempo Sergio capisci la situazione ah ma che è camera caffè ma mi fate vedere quello che tira Sergio Cruz guarda come sa ridono mamma paradine deve fare tre pallo pallo Sergio che bello che buona che buona che buona eccola ecco qua il mio Sergio senti senti per Cruz Pereira c'ha un piattino veramente veramente magico con un rigore sudato un pochino eh si si infatti ha fatto una grossa parata fortunata forse è entrata ti vedo un po' sono già cotto vero? no no non è vero ma quella è l'età professore stava di mano però che vado a correre e tutto stai facendo anche perché è vero noi siamo noi siamo abituati a guardare i video del calcio dei pischelli Sergio Della Don c'ha 35 anni mi sembra Edo, Tanze, Antonio e Charbin Ministero Danu bentornati e benvenuti c'è mica c'ha 36 quasi 35 o 36 dai 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 aspetta Sergio aspetta adesso il rigore dove glielo tiri centrale centrale cucchiaio so che c'è uno che guarda sempre fino all'ultimo però eh mi sto calciando forte perché se no non entra entra non penso proprio Sergio Cruz no quanto conosco i pollio quanto li conosco i pollizi quanto li conosco stai grazie per i tre mesi ben tornato ma era palese che lo voleva fa' era palese manco entrato no hanno entrato ah frate eh che è che è dai io già lo sai che sto per di eh che è Zidane Zidane al mondiale Sergio o 13 che no no Zidane no 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 è a 21 è a 21 il Don questo lo deve fare questo lo deve fare ce l'ha nelle corde no è ancora lì è 22 ha preso ha preso Crisco è un diesel ah struzzata attenzione nico grazie per i quattro mesi 10 tiri in meno e con 20 minuti in più ahahahahahahahah scusate vieni ahahahahahahah 22 22 hai già hai preso Crisco Simo con 10 tiri in meno però aspetta aspetta però lui ha corso lui ha corso Sto facendo e ho piano. Io ho corso con l'aduttore e hai fatto bene. Cioè, quindi lui ha fatto quella vera e io sto facendo quella con calma. Frick rispo, ci aveva l'aduttore fatto bene. Dunque, Serginio. Oh, meno 7 dal professore. Non esiste che fai 5 e tieni il professore. Io ci credo. Diamo tutto, diamo tutto. Lo supero o non lo supero? Lo vedo caldissimo. No, via, no. Ma io via. Non lo può prendere. Non lo puoi prendere. Non lo puoi prendere. Non lo puoi prendere. Non ce la fa. Cioè, ma quanto ne ti fa? 7 su 10? No, non lo puoi fare. Infatti giochiamo solo il 12. Ma, oh, giro. Ce la fa o non ce la fa? Ce la fa. 7 su 10? Ce la fa, ce la fa. Fa 5 su 10. Ma quindi al professore a fine gli hanno dato il gol. Gli avevano levato. Era 28, ma è 29? Ah, no, perché per 29 per superarlo, 28 per pareggiarlo. Genna, grazie per i 5 mesi. Secondo me fa 7 su 10. Precisi? Proprio più 1 dal po'. Secondo me ce la fa. Impossibile, ragazzi. No! Basta! E allora andiamo! No. Stirato, ma tirato in che senso? Stirato, ma tirato in che senso? Ah, allora Sergio. Devi farne 7 per superare il prof. Ok, vogliamo. Dire ha detto che... Impossibile. Impossibile, però non lo so. Proviamo. È tutto da vedere. Vediamo all'ultimo. Vediamo all'ultimo che so. Te cosa dici? Ce la fai o no? Sì o meno, però proviamo. Ma come sei pessimista. Eh, sempre o no. No, come sempre. Mai mettere troppe aspettative. Ma devi sempre guardare... Devi sempre guardare di chi... Se parti in negativo, puoi solo che fini in positivo. O al massimo o peggio? Sì, vabbè, direi. Però c'è nel senso... Direi che sta a fare Roberto Benigni in prima serata che ti dice tutta la Divina Commedia. Ma che è? Vai, un'altra volta? Vai, di. Eh, no, ma ti preoccupava. Ah, tu ancora parli, direi. Ah, è impossibile per dire capire che è un vito di calcio. Ah, beh, Simone Berlini. Così da nulla. Da nulla, Simone Berlini. È incredibile. Simone Berlini è ovunque. Tutti i giri. Sta diventando, zio porco, il Pipega. Sta diventando Berlini. Ormai. Il Pipega. Dai, direi. Ultimo giro. Comunque sono con me, eri prime, eh. Pazzesco. Sei rigori, sei shootout. Due. Ma perché ti, cioè... Ti vuole far soffrire, Simo. Però a me bastavano due rigori di shootout in più di 60 euro sopra il prof. Berlini, quell'occhiali l'hai comprati. Hey, wake up. Quell'occhiali, Berlini, 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 Berlini. Quegli occhiali tu li hai comprati da Asos a 7,99 euro. E non sono occhiali da vista, ma sono occhiali con lente trasparente solo per fare l'intellettuale e far bagnare le pischelle. E io ti dico bravo, Simone, perché con quella mascella te lo meriti avere un occhiale falso. Ci sta. Dai. E Dile ha detto no. Don De La Cruz, meno sempre... Signore, il don. Mamma mia. Questo è imparabile, eh. Il don. Il don. Le bambine, sì, ma perché io sono vecchio, ragazzi. Per me le 18 anni sono vecchie. Cioè, sono giovani e quindi io le persone di 20 anni, le ragazze di 20 anni le chiamo... Come il fiche. Vai, sergione. Posso migliorare una situazione ormai... È lui. Mia. No, ormai è una situazione persa, signore. Persa e ripersa. Meno uno da Campolunghia. Ragazzi, la stamina, eh. Io se faceva 4... Attenzione, sergione, palo, palo, non è gol. Attenzione, per il 26. Deve fare questo, deve fare questo, deve fare questo. Mamma mia. Buona palla. Don Cruz. SEMEIDA! Ragazzi, applausi, applausi. Ecco a livello. Che giocatore. A meno due dal professore. Merdonne, frate. Sergio, ma che giro hai fatto? È un giro fortunato, adesso... Meno due dal prof, eh. Oddio, che palle, non poti... Avevi detto che era impossibile, ma sta diventando possibile. Isuf, Joe, Big... Bentornati, bambino. Dai, sono sicuro che fai anche tre. Meno due... Era per dirti una roba, che cazzo vuole? Sound result. Ma non ho detto che era per dirmi una cosa. Che cosa vuoi? Mi senti, dai, lo vedo che sei smutato. No, niente. Sound muted. Mi riboccherà. Due dal professore. Meno tre dal primato. Sergio, non ci credo. 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 Non bastardo. Non ci credo. Mamma mia. Mamma mia. Ma già pareggiato come professore. Come professore. Sergio, male. E, dile. Spreca. Attenzione. E, oh, una devi farne. Oddio. No. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Il professore. Il professore. 29. Goal. Replay di PES 2006. Quando facevi goal, entrava la palla dentro la linea. Tornavi indietro, la facevi di in tre, valeva doppio. Goal. Flex, Gianni, grazie per il prime. Benvenuto. Arrivano sabato. Quattro bombolazze. Confine a te. Apprezziamoci tutti. Come le freccette. Sergio Cruz. Per il rai. Benvenuto. 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 Questo ragazzo lo voglio in King's League. Sì, dai. Lo voglio acquistare. Sì, mi piace. Mamma. Che schifo. No. Amminato, eh, Dong? Amminato. Amminato veramente. Eh, vabbè, ma è bravo. È bravo. Il donno è bravo. L'unica cosa è che abbasta sempre le aspettative e poi si gioca le chiavi di casa. E quindi mi ricorda Justron dieci anni fa.